Il tuo regno si è fatta la tua volontà. Da oggi Trasarti non è più Vescovo, ma amministratore appossolico. Don Giorgio, questo che cosa significa e che cosa comporterà? Allora, dal punto di vista giuridico, con la nomina pontificia che viene resa pubblica, abbiamo il Vescovo eletto, che ha ottenuto la missio canonica da parte del Romano Pontefice, da parte del Santo Padre, e quindi è Vescovo eletto per la nostra diocesi. Ovviamente deve ricevere l'ordinazione episcopale e poi deve celebrare l'ingresso, l'immissione canonica nell'ufficio pastorale, quindi una volta veniva definita come la presa di possesso, in pratica è l'inizio ufficiale del suo ministerio episcopale, quindi diocesi. Il diritto prevede in questi momenti di transizione una continuità per garantire la vita della Chiesa, una certa stabilità e serenità. Quindi certi uffici decadono, e sono quelli del vicario generale e degli altri direttori, perché sono assolutamente legati al Vescovo, mentre per garantire la continuità permane l'ufficio di cancelliere e di ricario giudiziale di Economo. Monsignor Trasarti da oggi non è più Vescovo diocesano, ma amministratore apostolico, il che significa che dal punto di vista giuridico non potrà più effettuare operazioni di straordinaria amministrazione, ma solo quelle di ordinare amministrazione in vista dell'ingresso e dell'arrivo del nuovo Vescovo. Questo per garantire la continuità, ma sempre nel rispetto del principio che i canonisti definiscono come, con queste situazioni, ni il innovator, cioè non si può rinnovare nulla, perché ovviamente c'è il Vescovo eletto ed ora in avanti spetteranno a lui le future decisioni. L'insediamento si sa già quando avverrà? Dipende tutto da Monsignor Andreozzi, sia il giorno della sua ordinazione episcopale, sia il luogo, sia l'ingresso nell'ufficio pastorale qui di Vescovo di Fano, dipende tutto da lui. Ancora non abbiamo comunicazioni, ma credo che quanto prima il Collegio dei Consultori prenderà contatto. Grazie. Grazie.